Evening Star Candlestick Pattern. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio parlarvi di questo particolare candlestick pattern, quindi un pattern che si verifica con la formazione di più candele, in questo caso di tre candele. Vedete, questa è la prima candela, questa è la seconda candela e questa è la terza. Questa formazione e il modo in cui si sviluppano queste tre candele ci danno, in questo caso, un segnale di possibile, possibile, ragazzi, inversione della tendenza e avrete sentito probabilmente parlare del corrispettivo, del contrario del candlestick pattern del Evening Star che si chiama Morning Star ed è il contrario perché mentre l'Evening Star, diciamo, viene fuori da un impulso rialzista e ci dà quindi un segnale di inversione al ribasso del prezzo, il Morning Star fa il contrario, cioè un prezzo che scende, forma questo pattern immaginatelo voi al contrario e ci dà una indicazione di inversione positiva, di trend, di impulso che dal impulso ribassista si riporta ad impulso rialzista. Perché vi voglio parlare di questo? Perché si è formato un bellissimo esempio, didatticamente parlando, sul Fusimib e sul DAX, ne ho parlato anche nella diretta di ieri, quella delle 13 e 40 e tra l'altro, ragazzi, mi raccomando ci vediamo anche oggi, è ormai un appuntamento quotidiano, Trading Today si chiama e i video li pubblico anche o meglio l'audio lo pubblico anche sul mio podcast, quindi ormai mi potrei seguire su molteplici canali, ma nella diretta avevamo parlato del Fusimib e del DAX e si è formata proprio questa interessante, questo interessante candlestick pattern, che potrebbe, potrebbe, potrebbe ragazzi perché? Perché non è che è magia, non è che è un pattern che il 100% delle volte ogni volta che si verifica allora vuol dire che poi il mercato si comporterà così. No, statisticamente questa formazione ci fa vedere che il mercato dopo, venendo da un uptrend, quindi da un impulso rialzista, succede qualcosa qua, ed è questa la candela chiave, è una doji bearish e meglio ancora se apre con gap, esattamente come ha fatto con il Fusimib, quindi è come se il mercato provasse a continuare ad andare verso l'alto, ma non ci riesce, si ferma, il giorno dopo c'è una candela al ribasso, meglio se dal grande corpo, vedete un bel corpo abbondante, e quindi vuol dire che il mercato ha, diciamo, non ha più la forza di far andare il prezzo verso l'alto, e poi il prezzo effettivamente è bearish, la price action è bearish, cioè scende. Quindi stiamo a vedere come si concluderà, vi faccio vedere l'esempio pratico sui due grafici, proprio sulla diretta che abbiamo fatto ieri, sono sicuro che questo video può rappresentare una buona partenza per capire, focalizzare e studiare questo candlestick pattern, molto utilizzato e molto famoso. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione, vi lascio alla diretta, ci vediamo oggi alle 13.40 su Instagram, Facebook o YouTube. A prestissimo, ciao! Europa, andiamo a vedere che cosa fa Piazza Affari? Il Fusimib, ragazzi, volevo farvi notare una cosa, in Europa si è formato quello che viene chiamato l'evening star candlestick pattern, che è il contrario del morning star. Il morning star è un candlestick che prevede l'inversione di un trend, di un impulso ribassista. L'evening star è il contrario invece, si forma quando c'è un impulso rialzista, succede qualcosa e c'è il segnale di inversione. Ve lo faccio vedere qua sul grafico, di nuovo per chi mi segue in diretta su Facebook e su YouTube. Questa è la formazione, quindi di solito abbiamo questo uptrend, abbiamo questo impulso rialzista, poi si verifica una candela piccola, meglio ancora se fa un gap rispetto alla candela precedente, una candela quindi dal piccolo corpo, con uno spike superiore e inferiore, una sorta di doji. Il giorno dopo, quindi è un candlestick pattern a tre candele, e candela rialzista, gap a rialzo con candela che in realtà scende, candela successiva del terzo giorno ribassista, quindi di colore rosso dal corpo largo, e questo potrebbe dare il segnale almeno tecnico, non è matematica ragazzi, non è che ogni volta che si verifica l'evening star, allora il giorno dopo si va short, no. No, però è un segnale tecnico di debolezza del mercato. Vi sto dicendo questo perché se andiamo a vedere quello che si è verificato sul Fusimib, guardatevi, evidenzio l'evening star del prezzo, vedete candela verde a rialzo, quindi c'è questo impulso che è partito il 10 luglio per il Fusimib, poi ieri candela che prima era riuscita a superare la media a 200 periodi, ma in realtà inverte e chiude al ribasso rispetto all'apertura, e ha un gap anche con la giornata precedente, terzo aggiornata, candela al ribasso oggi, il corpo non è così grande, ma comunque rimane il segnale di, il candlestick pattern di evening star. Staremo a vedere che cosa succede, sarà molto interessante, io ne parlerò ai ragazzi sulla trading room, nella trading room privata, perché qui ho una strategia e quindi andremo ad applicarla. Il DAX fa un movimento molto simile, anche sul DAX si è verificata lo stesso candlestick pattern di cui vi ho parlato poco fa sul Fusimib, vedete che il prezzo dopo questo impulso rialzista che era partito il 10 luglio, ieri fa questa candela con un gap, ma poi torna indietro, e la candela di oggi è ancora una candela ribassista rispetto al prezzo, il DAX è a 13.128, praticamente diciamo che ci siamo rimangiati tutta l'euforia e l'entusiasmo che c'era ieri sui mercati.